Buongiorno, benvenuti a tutti e soprattutto buon anno ancora dalla redazione di FanoTV. Benvenuti all'Occhio alla Notizia, all'appuntamento con la rassegna stampa in diretta tutte le mattine alle 7 con la lettura dei giornali, giornali che tornano in edicola dopo la pausa ovviamente del primo dell'anno. Allora, come di consueto vediamo i Santi di oggi, il Santo, i Santi di oggi, i Santi perché sono due, Santi Basilio di Cesarea e Gregorio di Nazianzo. Vabbè, il sole è sorto alle 7.41, tramonterà alle 16.41. Il tempo, avremo questi primi giorni del 2020 con l'anticiclone subtropicale, ma attenzione alle nebbie mite all'inizio dell'anno, punte di 15-16 gradi. Le temperature dunque sono destinate a salire, ma verso l'Epifania ci sarà una nuova ondata di aria gelida, con temperature che scenderanno al di sotto delle medie. Ma vediamo per oggi, così come ci indica la protezione civile delle Marche, il tempo previsto. Oggi avremo cielo sereno, poco nuvoloso, attenzione ai banchi di nebbia in serata lungo il litorale, le temperature in lieve aumento nei valori minimi, i venti di brezza tesa, foschie e banchi di nebbia lungo il litorale, centro settentrionale sul far del giorno e dalla serata. Per quanto riguarda la giornata di domani, invece, avremo cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento nei valori massimi, in lieve diminuzioni invece le minime, i venti di brezza tesa da nord o occidentali, domani, anche domani ci sarà probabilità di foschie e banchi di nebbia lungo il litorale, centro settentrionale. Tempo stabile per il fine settimana e per l'inizio della prossima, come appunto abbiamo visto. Allora, ci sono le notizie, tanta cronaca, il racconto del San Silvestro e del primo dell'anno sui quotidiani, c'è anche una tragedia, un morto di 26 anni nella nostra regione, lo vedremo tra un istante, tutto sommato nella provincia di Peso Urbino invece è andato tutto liscio. A parte una famigliola con quattro bambini, di cui uno piccolissimo, che ha dovuto far ricorso alla camera imperbarica perché ha rischiato davvero grosso per quanto riguarda l'intossicazione da monossidio di carbonio. Andiamo subito a vedere i titoli. Questo è il Corriere Adriatico. Proibiti botti e vetro? Beh, nessuno rispetta i divieti. Troppo alcol, all'alba scoppia una rissa fuori dal locale con 20 ragazzi coinvolti. Lo vedremo tra un istante, è un locale conosciuto dove a un certo punto si è temuto il peggio. Ma la tragedia di Capodanno ad Ascoli con un ragazzo che festeggiava l'arrivo del 2020 insieme agli amici a Colle San Marco ha fatto un volo di 50 metri per spegnere un fuoco d'artificio. Non si è accorto che sotto c'era un burrone e quindi è precipitato ed è morto. Una famiglia intossicata in casa, salvata in camera imperbarica, stufa difettosa, monossido in azione a Ponte Sasso di Fano. Sette persone, tra cui quattro minori, soccorsi nella notte. Questo invece è il resto del Carlino. San Silvestro batte Fano, quasi 5.000 in piazza 20 settembre. Nella città di Rossini invece 1.500, ma gli organizzatori sono felici lo stesso. A centropagina la sfida dei tuffi nel fiume o al mare è il capodanno dei temerari. Al porto di Pesaro in 2.000 ad ammirare i 60 nuotatori, mentre a Borgopace un manipolo di intrepidi si getta nelle acque del Lauro e lancia una sfida a quelli che invece dicono che si buttano in acqua al mare. Dicono, insomma, buttatevi nel torrente. La vera impresa è questa, perché è facile buttarsi nell'acqua al mare. Invece è più difficile qui nel fiume. Polpette allumachicida, caccia all'avvelenatore, questo è successo a Fanano di Gradare, poi come dicevamo a Ponte Sasso la famiglia intossicata. A centropagina invece il primo vagito è quello di Celeste nella cronaca del resto del Calero di Ancona. Celeste è nata alle tre al Salesi, feste tranquilli, due soltanto i feriti, ma lievemente. Addio a Balloni, il professore sportivo, economista ed ex calciatore, aveva 85 anni, ricordo commosso dell'Istau e della Fondazione Merloni. Macerata, la fotografia è per questa donna che ha subito un'aggressione, una tabaccaia, caccia adesso i due banditi, legata e massacrata. Daniela Zucconi, presa in ostaggio in casa in Contrada a Valteia, mi hanno tagliato, dice lei, racconta un dito e colpito al volto, speravo solo che finisse. La polizia è sulle tracce di un sospetto, petardi, sequestro da 200 kg, il blitz della questura, capodanno di eccessi, denunciato un ubriaco che aveva insultato i carabinieri. Grande festa a Senigallia, il capodanno è scivolato via senza problemi, tutto esaurito al Summer Giamborì e alla cerimonia di sposalizio della coppia Sharon e Tommaso. Festa in piazza, vince Fano, lì in 5.000, a Pesaro 1.500, confronto impari tra i due appuntamenti con il sindaco Seri, mattatore sul palco e una cantante romena con il suo disco Mania. Botti vietati, nessuno però rispetta l'ordinanza e a Baia, Flaminia, petardi addirittura sul presepio. Nella zona della Movida un tripudio di fuochi a farne le spese è stata la natività danneggiata, organizzatori soddisfatti per la festa in piazza del popolo, c'era più gente, dicono loro, dell'anno scorso. In piazza Fano tra palloni e selfie per Dragostea, vietato il vetro ma per il brindisi tutti ad alzare bicchieri e bottiglie e poi rissa fuori dal locale, 20 giovani coinvolti, la rissa, la lite degenera, fuggi-fuggi all'arrivo dei carabinieri e questo è successo al Colosseo di Montecchio di Pesaro, una rissa sfiorata, un ubriaco in coma, una piccola ostione alle mani per un giovane che aveva acceso un petardo dalla parte sbagliata. Qui siamo nella cronaca di Pesaro dell'ultimo anno, mentre la piazza stretta tra carabinieri, agenti e volontari, mobilitazione necessaria con circa 20 uomini per evitare incidenti, area pulita, ripulita, tutta quanta, insomma, per l'alba. Ma questa è la tragedia invece di cui parlano i quotidiani, il Carlino e il Corriere questa mattina, la tragedia di Capodanno di questo giovane, giovane di 26 anni, Valerio Amatizi, che ha cercato di spegnere un fuoco d'artificio a San Marco, ma è caduto nel dirupo. E questa è la fotografia del luogo, vedete i carabinieri, dove appunto Valerio è precipitato e ancora le confezioni dei fuochi d'artificio. Le altre pagine, anche qui il resto del Carlino, il giovane era con gli amici, uno dei botti sparati, aveva creato un piccolo incendio di sterpaglie, ma sotto c'era il burrone. Questo ragazzo che non si è mai risparmiato nell'aiutare gli altri, lo vedremo anche dai giornali e dalle pagine successive, questo ragazzo che in questa occasione si è avvicinato alle fiamme per cercare di domarle velocemente, nella paura che potessero espandersi sotto le sterpaglie, però non c'era il terreno e quando ha messo il piede non ha trovato l'appoggio e dunque è finito, ha fatto un volo che lo ha portato alla morte. Altri due feriti dai botti, ragazzino gravissimo, un 17enne di Monsampolo, portato al bufalino di Cesena per ustione, un 33enne ascolano invece colpito ad un orecchio. Eccola la fotografia, dicevamo perché era sempre disponibile per gli altri, ed era una sorta di angelo, è l'angelo del sisma, del terremoto, perché ha aiutato in quell'occasione il 24 agosto del 2016 quando fu tra i primi a mettersi a scavare a mani nude e aiutò i suoi compaesani. Lui abitava ormai ad Ascoli ma aveva nel cuore il suo paese, Arquata del Tronto, in particolare Capodacqua, che due paesi che erano in cima ai suoi pensieri e dove lui tornava spesso. Tra l'altro il 13 gennaio dell'anno scorso aveva perso il padre in una battuta di caccia. Volontario tra le macerie, anche il Corriere lo ricorda così, per aiutare i compaesani, Arquata e Capodacqua piangono un ragazzo straordinario. La notte dei fuochi d'artificio è stata una notte con un drammatico bilancio nella regione Marche, nella nostra regione. Gravi ustioni infatti per un 17enne, mentre una bambina è rimasta lievemente ferita a Senigallia. Tuffa al porto, uno spettacolo per 2000 persone. Il bagno del primo gennaio è sempre più seguito, oltre 60 quelli che hanno sfidato le acque fredde, da record la partecipazione femminile. È un'esperienza unica, raccontano, speciale, capace di darti la carica e toglierti le negatività. Un infermiere tra le 15 donne, infermiere professoresse, studentesse e anche una ragazza di Londra. Questa è una fotografia di gruppo esclusiva solo per loro. Mentre a Borgo Pace, sette coraggiosi, qui ce ne sono soltanto quattro nella fotografia, ma sette coraggiosi si sono buttati, gettati nelle acque gelide del fiume. E quelli dell'Auro dunque lanciano la sfida, dicono qui la temperatura dell'acqua è intorno ai due gradi, quella dell'aria a quattro, si è buttato anche un cane. Dicono, insomma, voi che fate tanto i belli con tanto di fotografia giù al mare, insomma, venite qua e accettate la sfida. Tutto è partito quattro anni fa per gioco, i partecipanti crescono ogni volta, sono capaci tutti, dicono loro, di fare il tuffo in mare, venite con noi qui sotto l'Appennino e dunque cambiate location. Vedete, insomma, la sfida è accettata, vedete, vedremo cosa succederà il prossimo anno. Il benvenuto è qui, siamo sul Corriere Adriatico, al nuovo anno è un bagno a soli 7 gradi, vedete già la temperatura, 5 gradi fanno la differenza comunque. Sempre più numerosi i partecipanti, ieri mattina in 60 pronti a tuffarsi, ovviamente chi si è buttato in mare anche non solo con il costume, quello che si usa in estate, ma anche costumi e maschere quasi di carnevale. Tutti di corse invece per smaltire le carriolide del Cenone, qui è la foto dei Babbi Natale. Moto benvenuto, il rombo degli auguri al Beato Sante, l'ormai tradizionale appuntamento, in oltre 600 scalano a uno dei colli, simbolo del nostro entroterra. E allora andiamo a vedere, come è di consueto, anche chi sono i primi nati nella provincia di Pesero Urbino, abbiamo visto quella di Ancona, Serena, Serena è la bimba nata a Fano, diciamo che anche in questo caso Fano batte Pesero, perché a Pesero, così come Urbino, il primo giorno dell'anno non ci sono stati nuovi nati, mentre dunque il primato spetta al Santa Croce, Serena l'augurio più bello del 2020, il titolo del Corriere è di Fano la prima nata nelle Marche addirittura, ma per il fenomeno delle culle vuote nessuna inversione di tendenza al San Salvatore e al Santa Croce. Queste sono le fotografie, poi il titolo del resto del Carlino, la prima nata è Serena, l'ultimo ad arrivare invece Brando, la bambina è venuta alla luce al Santa Croce di Fano all'1.18 del 1 gennaio, il maschietto invece al San Salvatore alle ore 17.40 del 31 dicembre. Allora, visto che è difficile per voi immagino a casa leggere Didascalie, vediamo di aiutarvi. Allora, sopra in questa fotografia qua, Luigi Nicastro che abbraccia il piccolo Brando, ultimo nato del 2019, come abbiamo detto, a Pesero insieme alla mamma Meghi. Sotto invece, e qui cambiamo, papà Antonio che abbraccia Serena e la mamma, e quindi Amanda, e questa è la prima nata. Famiglia intossicata invece dal monossido, tutti in camera iperbarica, salvati i quattro bambini, intervento e soccorso a Ponte Sasso di Fano, sette le persone ricoverate, incendi e malori, la notte lunga dei Vigili del Fuoco e del 118. L'autobus invece, linea 2 in sofferenza, chieste migliorie, più mezzi e tempi modificati. Il sindacato dei conducenti ha già interpellato Adria Bus. Siamo sempre sulla pagina di Fano. Via Le Battisti non sarà un'avventura. Nel 2020 l'atteso restyling è definitivo. Per l'intervento sono stati stanziati 950 mila euro da scorporare per via Garibaldi. All'appello manca ancora il progetto. Il lato sud dovrebbe essere solo al servizio dei pedoni. Siamo sul Viale Battisti appunto. Ma la cronaca, un pupazzo pieno di cocaina, arrestate per spaccio due donne straniere, in libertà la più giovane, complice invece è finita ai domiciliari. Ma la fotografia di Marco Montanari, questo postino in tenuta giallo-blu sul motorino delle poste italiane, il postino che va in pensione dopo 137 mila chilometri, un uomo straordinario per sindaci, enti e polizia. Montanari saluta dopo 38 anni di servizio e lui dice Conosco a memoria vie, numeri civici da Fano praticamente fino a Mondavio. E in 38 anni di onoratissimo servizio ha percorso veramente macinato migliaia di chilometri, 137 adesso più o meno in pratica tre volte il giro del mondo, per consegnare lettere, cartoline, bollette raccomandate, una corrispondenza che nel tempo ha conosciuto evoluzioni impensabili. E Marco Montanari, che è storico postino fanese, ha appeso il borsone al chiodo e da ieri è ufficialmente in pensione. Ed è una sorta di navigatore umano, conosce veramente tutte le vie. La pagina di Ancona invece, del Corriere Adriatico, ricorda Valeriano Balloni, ex calciatore ed economista, aveva 85 anni, è stato l'allenatore dell'imprenditoria. Giampaoli lo ricorda dicendo giocavamo a calcio, alla fine lui studiava e noi ci divertivamo. Il professore Alessandrini ancora dice instancabile, ha vissuto da docente come nello sport. Torniamo a Fano. Rosciano, capodanno di guai per le sexy pusher ed è ancora allarme cocaine, carabinieri di terre roveresche denunciano un cinquantenne. Un uomo invece di 84 anni, mi pare 84-85 anni, è caduto, è svenuto in casa, lo hanno salvato i vigili del fuoco. È successo la notte di San Silvestro, la sera del 31, poco prima di mezzanotte, nel quartiere del Vallato. Un uomo di 84 anni che è svenuto in casa, non riusciva più ad alzarsi. La figlia ha suonato più volte il citomodo e quindi non avendo risposta ha chiamato il 115, i vigili del fuoco che sono entrati e poi l'ambulanza del 118 che lo ha visitato. Andiamo avanti ancora con la rassegna stampa. Qui siamo invece a Fanano dove è caccia l'uomo che sta avvelenando, tentando di avvelenare i cani con il veleno per le lumache. Polpette contenenti tracce di lumachicida gettate nella zona di Massignano, denunce. La forestale ha già fatto un sopraluogo e vedete c'è anche il cartello che indica di fare attenzione ai proprietari di cani. Poi guardate questa fotografia. Non lo so, è una buttada forse, ma comunque è l'idea che ha lanciato, la proposta che ha lanciato il geometra Tarcisio Armani per l'ingresso di Sant'Orso. Chi arriverà in città si troverà davanti la riproduzione. Ora, insomma, abbiamo il Lisippo. Il Lisippo potrebbe tornare, almeno dobbiamo continuare a sperarlo, potrebbe tornare da un momento all'altro. Chissà, forse, in un giorno. Ma noi dobbiamo essere lungimiranti e ottimisti. E quindi nel momento in cui sarà a Fano, magari al teatro romano, in una collocazione simile, per chi arriverà da fuori a visitarlo, trovarsi la Statua della Fortuna, non c'è zecca, non c'entra nulla. E quindi bisognerà poi spostarla. Allora, per evitare questa cosa, io direi che, e per non farla diventare anacronistica, io direi di lasciar perdere. Però, questa è una, come dire, è una proposta del geometra, magari non proprio lì, ma da un'altra parte. Si potrebbe pensare, tenendo conto che c'è anche quella bruttissima antenna dietro, che, insomma, non è che rende la cosa... che rende la cosa così carina. In fatto di rotatorie, purtroppo, mi dispiace dirlo, io, anche girando, anche qui attorno, anche in Romagna, ce ne sono di veramente belle. Noi abbiamo un difetto, le rotatorie non sappiamo farle, in tutti i sensi. L'obiettivo è un polo museale, invece, è la proposta del coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani, Palau Clini, che dice che occorre dare al teatro una visibilità più completa, un polo museale, dicevamo, della romanità. Questo, anche al seguito di quest'acquisto dell'ex fabbrica, dove sono stati rinvenuti qualche anno fa i resti di un teatro romano, in via dei Amicis, nel cuore della città, che adesso pone l'amministrazione comunale di fronte anche alla suggestiva ipotesi di creare un vasto e articolato polo museale della romanità. E quindi se ne parla con questa intervista, appunto, a Paolo Clini. E poi, sempre sulle pagine del resto del Carlino, di parchi e riserve più accessibili e disabili, c'è una proposta di legge di Federico Talè, del partito democratico, anzi, ex partito democratico, che va in questa direzione, ora ha la copertura finanziaria, e potrà completare il proprio iter. Adesso Federico Talè è passato Italia Viva con Matteo Renzi, questa delega alla sanità, anche in questo modo si può contribuire ad abbattere, dice lui, le barriere. Poi sfiorano la morte, anche qui la notizia di questa famiglia con quattro bambini piccoli, che è stata ricoverata, in qualche modo, nella camera iperbarica per disintossicarsi dal CO. Sfiorano la morte per il monossido, intossicata tra un famigliolo con quattro bambini, tutti salvi dopo il trattamento, avevano un brecere in mezzo alla stanza, una stufa gas che era difettosa. Ad aver avuto il malore è stato un trentenne, il fratello del capo famiglia. A Urbino, invece, città da tirare a lucido per l'anno di Raffaello, l'assessore Roberto Cioppi elenca gli interventi principali, via tutte le scritte dai muri, pulizia delle colonne di Corso Garibaldi, insomma, c'è da fare perché comunque Urbino sarà al centro del mondo. Mangialardi, invece, il sindaco di Senigallia, un violino che ha suonato l'inno d'Italia per i 25 anni in comune. Il sindaco, sapete, è all'ultimo mandato, quindi è stato per lui l'ultimo discorso da sindaco, ha voluto lasciare con un po' di anticipo. Lui ha detto che è stato un ruolo unico per me, ho sofferto per l'alluvione e anche per la strage di Corinaldo. E poi ha salutato tutti, si è emozionato, sono dieci anni da sindaco, dieci da amministratore, cinque da consigliere comunale, insomma, 25 anni. 25 anni passati a Senigallia, quindi, insomma, per lui sono, adesso che deve lasciare, comunque un momento di grande emozione. Poi la cronaca, sempre da Senigallia a Carlino, ragazza ferita dai botti, lite tra vicini di case, un ultimo dell'anno con un po' di agitazione, tra ubriachi, violenti e lesioni dai petardi, in alcuni casi petardi che erano fuori legge. DASPO urbano, invece, una disposizione per coloro che non si comportano bene a non rientrare più in città. Qui siamo a Pesaro, di nuovo, sul Corriere. Monitorate le aree calde, 30 gli ordini di allontanamento emessi, questi DASPO. Numeri della polizia locale, in linea con l'anno precedente, ci sono state più multe per accattonaggio molesto, quelli che ti chiedono la monetina per essere lasciato in pace. Crisi bamboccioni e matrimoni al palo. Nascita al minimo storico nelle Marche. In sei anni c'è stato un calo del 30%. I dati sono del dossier del Forum delle Famiglie e del Consiglio regionale. Dunque, nell'arco di tempo 2012-2018, in questo dossier si registra un meno 30% di nascite nelle Marche. I nati del 2012 13.196, i nati lo scorso anno invece 10.171. Quindi vedete come c'è davvero un 3.000 persone, 3.000 nati in meno. Dunque, negli ultimi dieci anni, il tasso di fecondità passa da 1,43 a 1,24 figli per donna. Valore al di sotto della media italiana. E questo è il riquadro, l'articolo che troverete sul Corriere di questa mattina. Da Vallefoglia, premio Shoah, boom di adesioni. A fine mese scade l'iscrizione alla seconda edizione del concorso nato dal libro di Mazzoli sulla famiglia Sarano. A Urbino, Raffaello, finito nel discorso di Mattarella, il Presidente della Repubblica in TV, un punto esclamativo per il 2020. Il Capo dello Stato ricorda il 500esimo del divin pittore, piazza gremita per festeggiare l'anno nuovo. Ecco le fotografie, centinaia di persone che hanno ballato in piazza ad Urbino, anche l'amministrazione per il Brindisi, per il Cincin. Poi una canna fumari invece a Urbania, che è andata a fuoco, paura per i residenti, in via Largo Scirri, quando è scoppiato questo incendio. In casa c'erano i residenti degli appartamenti sottostante, l'ultimo piano disabitato. Fiamme in centro, come dicevamo, si è temuto per il solaio. Sicurezza, Fossombrone, sicurezza, cantieri e qualità della vita. Il Sindaco Bonci sfoglia l'agenda del 2020, parla di azione, varchi di accesso in tutta Fossombrone e più vigili entro il mese di gennaio. Presto ci sarà anche un incontro con l'arma dei Carabinieri. Mentre da Pergola, polemiche per visibilità, la Sindaco Simona Guidarelli, che risponde alle critiche dell'opposizione, l'opposizione di Baldelli, che hanno disertato il Consiglio. La Sindaco dice, tanto lavoro da portare avanti, preferiamo concentrarci sui programmi. E poi guasto alla rete idrica da una rottura nella zona di Sterpettine a Mondolfo e all'opera, scusate, i tecnici di Aset. E questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Non abbiamo più tempo. E allora, noi ci salutiamo qui, ci rivediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. Occhio alla notizia. Come sempre vi ricordo, l'anno è nuovo, ma il numero è sempre lo stesso. Il numero è questo, quello da memorizzare sulla vostra rubrica, sul vostro cellulare, ed è il numero per le segnalazioni che, come sempre, a noi, come redazione, fanno sempre davvero comodo perché ci aiutano a lavorare ed agire con tempestività. Quindi grazie a tutti voi per la collaborazione. Arrivederci e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.